Renato Perrini, candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia, con il sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. In queste interviste che stiamo facendo per conoscere i candidati abbiamo parlato di programmi, di sviluppo del territorio e quant'altro, ma in questa sede, in questo momento voglio un po' affrontare l'aspetto umano, perché devo dire che Renato Perrini può essere apprezzato o meno dal punto di vista politico, però su una cosa tutti concordano, maggioranza e opposizione, sulla lealtà della persona Renato Perrini. Anche il presidente Emiliano ha riconosciuto questa genuinità, questa lealtà. E' importante la lealtà Perrini, cosa è per lei? Ma è stato uno dei miei principi di vita, da quando ero ragazzino, che mi hanno insegnato i miei genitori, perché a essere sreale i risultati poi si vedono quali sono. La lealtà è quella di stare vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà, agli amici. La lealtà è stare anche vicino a chi soffre, anche a chi ha un avversario politico, perché per portare dei risultati sul territorio, sai benissimo le mie battaglie che ho fatto in questi anni, in campo oncologico o in altre situazioni. Se non sei una persona corretta e leale, anche con l'altra parte, difficilmente tu porti dei risultati sul territorio, perché voglio ricordare che io stavo in opposizione. Stando in opposizione, avendo anche un rapporto con l'altra parte della mangianza, quando si tratta di sanità e di situazioni ambientali del mio territorio, io non ho mai visto il colore politico, ho portato il risultato, perché il risultato non è che se lo prende Perrini o Emiliano, poi è un risultato che rimane sul territorio per i nostri figli, per le nostre generazioni future. Perrini, lei sostiene il candidato presidente Raffaele Fitto, lo sostengono tutti i rappresentanti, i candidati del centro-destra, ma lei ha un rapporto particolare di amicizia fraterna con Fitto, anche quando la politica è fatta di momenti, ci sono momenti più alti e momenti meno alti, anche quando la stella di Fitto politicamente ha brillato un po' meno, lei comunque gli è stato vicino. È brillato un po' di meno perché si è andato in 15 anni di popolesmo, si è andato sulle calugne, sul sentito dire, ma non si è andato mai nelle sostanze, perché quando calava, come ha detto lì, il discorso di una stella cadente, era cadente perché si erano arrivati quegli anni del popolesmo, dell'illusione nell'Elva che veniva, diceva non ci dimentichiamo il vento, quando veniva nell'Elva a dire che chiuderemo l'Elva, poi è toccato l'Emiliano, poi le 5 stelle, poi le 5 stelle, la chiusura degli ospedali che dicono in tanti che Coppa di Fitto in realtà non ha chiuso neanche un ospedale, ma lui voleva fare una sanità di livello, una sanità che poi alla fine lo stesso Emiliano ha adottato, ma infatti anche in ritardo, con grosse difficoltà. Cioè la vicinanza a Raffaele non è una vicinanza oltre di affetto, ma anche una vicinanza di cervello, perché conoscendo bene lui, conoscendo tanti altri politici in circolazione, è il momento che ci voleva in questo momento in Poglia, in Italia, se erano personaggi del cambio di Raffaele, perché si deve andare più sulla qualità, sui fatti, sulla concretezza e meno illusione, perché 15 anni di illusioni ci hanno portato a questo disastro, che abbiamo perso 15 anni.